Le immagini che state vedendo ci sono state fornite dall'Associazione Italia Nostra, San Nicolarcella, località Vannefora. Poco sotto un villaggio turistico, la condotta che porti i reflui nel depuratore è stata lesionata, forse, da una frana. Le cause sono in fase di accertamento, ma il fiume maleodorante è una certezza. Il rivolo confluisce nel canale Saraceno e si disperde a valle, dove si apre la spiaggia della Grotta del Prete. La zona cerchiata in rosso è il punto dove gli ambientalisti hanno effettuato questo video. Domanda, com'è possibile che un'associazione sia riuscita a scoprire tutto questo? I rappresentanti del presidio locale di Italia Nostra concordano su di un fatto. Vista la vegetazione e i muschi che si sono formati lungo questo ruscello di reflui, la situazione va avanti da molto tempo. Speriamo solo di essere smentiti, ma ricostruiamo l'intera vicenda. Il 23 agosto l'associazione ha segnalato e consegnato il video di questo scempio alla compagnia dei carabinieri di Scalea. Il giorno successivo, sia i militari guidati dal capitano Alberto Pinto che quelli del nucleo operativo ecologico di Catanzaro si sono recati sul posto e hanno accertato il tutto. Risultato, deferite in stato di libertà due persone accusate di aver sversato liquame fognario nelle campagne di San Nicola, si legge in un comunicato giunto dei carabinieri di Scalea. La fonte di tale inquinamento è stata rintracciata in un villaggio turistico della zona. Ma torniamo alla domanda che ci siamo posti prima. Com'è possibile che nessuno si sia accorto di quello che stava avvenendo? Da anni si parla di scarichi abusivi, di tutela del mare, di depurazione e allora dove manca il controllo delle istituzioni ci vuole l'occhio del cittadino. L'associazione Italia Nostra invita tutti a inviare le proprie segnalazioni all'indirizzo email italianostra.braiammare.gmail.com Il comune di San Nicola Arcella ha preso i suoi provvedimenti. Abbiamo parlato con il sindaco Barbara Mele che ci ha riferito di aver emesso un'ordinanza urgente in cui si intima il ripristino della situazione entro e non oltre le 48 ore. Altrimenti l'intero villaggio verrà chiuso come prescrive la legge. Altrimenti l'intero villaggio verrà chiuso come prescrive la legge.